Fine settimana trascorso sulla montagna sacra per il neo-orcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone. Sabato a San Giovanni Rotondo, nei luoghi di padre Pio, domenica a Monte Sant'Angelo, nella grotta di San Michele Arcangelo. La lunga giornata a San Giovanni è iniziata con la visita all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove ha ricevuto i saluti del direttore generale dell'Opera di San Pio, dei dipendenti e del segretario generale dei gruppi di preghiera. Nel pomeriggio padre Franco Moscone è stato accolto in piazza padre Pio dal clero, dalle autorità cittadine, con in testa il sindaco Costanzo Cascavilla, e da numerosi fedeli. Una breve visita nella chiesa matrice di San Leonardo Abate, per poi concludere la giornata nel santuario Santa Maria delle Grazie, dove ha concelebrato l'Eucaristia. Tra i tanti presenti alla messa, anche il presidente della Puglia, Michele Emiliano. Domenica a Monte Sant'Angelo, nella grotta Santuario di San Michele, anche in questa occasione accoglienza festosa, nel corso dell'Omelia, Monsignor Moscone ha affrontato i problemi che questo territorio vive da diversi anni. Mi sembra di vedere esattamente la realtà e il significato di San Michele Arcangelo. La lotta continua tra il bene e il male, ma nella certezza che non potrà mai vincere il male, resta unicamente solo il bene.